Come fare? Un problema alla volta. Quindi il problema successivo che noi ci troviamo è quello che adesso abbiamo tre coppie di parametri in contemporanea. Ovvero abbiamo i parametri che abbiamo ottenuto con i minimi quadrati, i parametri che abbiamo ottenuto con la massima verosimilianza e i parametri che abbiamo ottenuto con il metodo dei momenti. Tutti questi sono ottimi. Sono stati ottenuti con diversi criteri di ottimo e quindi a priori non sappiamo stabilire quale sia il migliore. Dobbiamo cercare un nuovo test per discriminare perché alla fine deve rimanere solo uno, solo una copia. Il metodo che è stato escogitato è un test non parametrico che si chiama test non parametrico di Pearson perché non coinvolge di per sé la distribuzione dei parametri e consiste nel fare queste operazioni. È ovvio che io qui vi sto indicando la procedura concettuale di come fare queste cose. Poi bisogna avere dei software o delle procedure comunque a mano per calcolare i valori. Noi nella seconda parte del corso andremo a rifare tutte queste operazioni usando dei software specifici. Quindi rifaremo tutte queste operazioni che voi vedete adesso in realtà sono il frutto di calcoli fatti attraverso l'uso di un software. Per il momento però ci interessa delineare il quadro concettuale. Quindi qui che cosa vedete in questo grafico? Vedete in ascissa ci sono le altezze di precipitazione che vanno più o meno da 0 a 90 mm. Vi posso già anticipare che queste sono le precipitazioni di cui avete visto la tabella la volta scorsa, cioè sono le precipitazioni in particolare orarie, le altezze di precipitazioni orarie. La curva con i pallini che cos'è? La curva con i pallini sono i dati misurati, cioè è praticamente il numero totale di dati diviso, cioè il numero di dati che sono inferiori ad una certa misura. Ora per esempio prendiamo, vedete la freccia 0,2, intercettiamo sull'ordinata lo 0,2 e vediamo che dice un pallino. Quel pallino corrisponderà a circa 28 mm di precipitazione. E quel pallino, quanti pallini ha minori uguali del suo valore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pallini. Quindi ci sono 8 misure inferiori di quelle. Queste 8 misure, quindi sono 8 diviso il numero totale di misure, mi dà la frazione di misure che è inferiore a 0,2, effettivamente. La frazione di misure che è più piccola di quel valore che io leggo essere 28 mm circa. e quindi i puntini sono i punti misurati. Attorno a questi puntini, avendo applicato uno dei metodi, se ho applicato uno dei metodi, ottengo i valori di A e B della curva di Gumbel, avendo la sua espressione, io sono in grado di plottarla. E appunto la curva rossa, altro non è che una delle curve di Gumbel, ottenuta, presumo, con il metodo dei momenti. Come vedete, la curva non passa esattamente attraverso, cioè passa esattamente attraverso i punti. Più o meno è una media dei punti. Questo lo vediamo visualmente. Se non fosse così, se la curva fosse tutta spostata a sinistra, tutta spostata a destra, dovremmo preoccuparci. La preoccupazione potrebbe avere due ragioni. Una, che noi abbiamo calcolato male i parametri A e B, e l'altra semplicemente che l'abbiamo disegnata male. Entrambe le cose si verificano con frequenza e vanno sempre testate. Se noi vediamo che qualcosa non va bene, questo deve essere... dobbiamo ritornare indietro nei nostri passaggi. Che cosa facciamo allora? Attraverso la curva noi siamo in grado di mettere in relazione ogni punto delle ordinate con ogni punto delle ascisse. Quindi suddividiamo l'asse delle ordinate in cinque parti. In questo caso equi probabili. Il numero cinque non è una regola esatta. Devo semplicemente sincerarmi che in ognuna delle parti in cui divido l'asse delle ordinate sia contenuto un numero sufficiente di punti. Prima, per esempio, dicevamo che fra 0,2 e 0 ci sono circa 8 punti. Così pure più o meno fra 0,4 e 0,2, fra 0,6 e 0,4 e così via. Ho bisogno di avere un numero sufficiente di punti per poter fare una statistica. Quindi ho scelto di suddividere in cinque, avrei potuto suddividere in quattro, avrei potuto suddividere in sei. Ho scelto di suddividere, di fare degli intervalli regolari, ma avrei potuto anche scegliere degli intervalli regolari. Nulla di tutto questo è scritto. Posso comportarmi come meglio credo, come penso sia la cosa migliore. Ma una volta che ho fatto questa suddivisione posso invertire la curva di Gumbel e questo è facile. Prendo due volte il logaritmo, logaritmo di meno logaritmo della curva di Gumbel e trovo, associo ad un valore del quantile, mi pare che l'abbiamo visto anche la volta scorsa, un valore delle ascisse. In corrispondenza di ciascuno dei quantili 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ottengo dei valori che chiamerò H di 0,2, H di 0,4, H di 0,6 e H di 0,8. Che cosa vado a fare adesso? Questo mi consente di suddividere l'intervallo, questa volta, delle ascisse in cinque parti. La suddivisione delle ascisse in questo caso è irregolare perché è stata determinata dalla curva rossa, quella che ho interpolato. A questo punto che cosa devo fare? Vado a contare quanti pallini ho in ciascun intervallo. Ho 7 pallini, non 8 come avevo contato prima nel primo intervallo, 7 nel secondo, 9 nel terzo, 13 nel quarto e 7 nel quinto. Ora, se io ho suddiviso la probabilità in cinque parti uguali, quello che mi aspetterei è di avere un numero uguale di punti in ognuno degli intervalli in cui ho suddiviso le mie ascisse. invece non è così come vedete. Come posso quantificare questa differenza? Posso quantificare in questo mondo valutando una funzione che chiamo x quadro in cui la formula è piuttosto complicata ma serve a dire prendo il numero di valori che ho, 7 per esempio, e lo sottrago al numero di valori che mi aspetto avere. quanti numero di valori mi aspetto a avere? Beh, la prima linea è 0,2 di probabilità. Se moltiplico 0,2 di probabilità per il numero di misure che ho, che è 7,14 più 9, 23 più 13, 23 più 13, 36 più 7, 40, 40 misure. Dovrebbero essere 50 ma va bene. No, va bene, qua ho forse sbagliato a fare la somma al volo, però l'idea è questa, mi aspetto di avere, ho 50 misure, mi aspetterei di averne 10 per ogni una. Questa formula non va altro che a esprimere questa cosa. nj che vedete in alto, il primo termine è a sinistra al numeratore, è il numero di palline che ho in ciascun intervallo. n piccolo è il numero totale di misure. Gli altri due termini che stanno, manca una parentesi di chiusura, mi accorgo ora, gli altri due termini non fanno altro che misurare la probabilità di avere un valore inferiore di hj più 1 che in questo caso sarebbe 0,4 cioè il primo intervallo è 0,4 meno 0,2 e che fa 0,2 per esempio. Diviso il numero di valori che mi aspetto di avere nell'intervallo j esimo. La formula è complicata ma a parte una parentesi è corretta e dopo vediamo come si semplifica anche. Nel caso precedente questa espressione infatti è uguale a 0,2 quindi la nostra formula dell'x quadro diventa 1 diviso 0,2 n perché questi non dipendono da j e si possono portare fuori della parentesi per nj meno 0,2 n al quadrato k in questo caso è 5 cioè qui la freccia sembra dire che io assegno il valore 5 a k mentre n era quello che abbiamo determinato. Questa operazione io l'ho fatta per una curva la curva rossa che ho detto per esempio in questo caso era il metodo dei momenti. Rifaccio la stessa operazione con le altre curve quella ottenuta con il metodo della massima verosimilianza e quella ottenuta con il metodo dei minimi quadrati. È abbastanza intuitivo capire che quella che mi dà l'x quadro più piccolo è la curva che si adatta meglio secondo questo test ai dati ed è quella che tengo che tengo per buona. Dunque a questo punto abbiamo una sola coppia di parametri certo solo relativi ad una durata dobbiamo ripetere questa operazione per tutte le durate nel nostro caso le durate sono durate specifiche cioè un'ora tre ore sei ore dodici ore ventiquattro ore dovremmo ripetere tutte queste operazioni per le varie durate in realtà vi chiedo qualcosa di più cioè vi chiedo di farlo non solo per le durate che vedete qui ma vi chiedo di farlo anche per le precipitazioni inferiori all'ora che si chiamano che si chiamano scrosci perché in alcuni casi è importante considerare gli scrosci separatamente per le piogge orarie e per le piogge suborarie così separatamente anche per le piogge giornaliere e plurigiornaliere perché come vi ho detto all'inizio le curve di possibilità pluviometrica non interpolano uniformemente tutti in modo corretto tutte le durate di precipitazioni ma sono una curva approssimata su un intervallo opportuno di durate dopo che ho fatto queste operazioni attraverso i software che andremo ad usare ottengo le curve le 5 migliori curve per le durate orarie in questo caso le 5 migliori curve che interpretano i miei dati una volta che ho queste curve io sono in grado di risalire ai tempi di ritorno perché come vi ricordate i tempi di ritorno sono correlati a queste distribuzioni di probabilità in particolare il tempo di ritorno è uguale ad 1 meno 1 sulla probabilità e quindi in questo caso abbiamo abbiamo finito una prima parte delle nostre operazioni e da questa parte poi saremo in grado di andare oltre e di costruirci le curve di possibilità più biometriche grazie Grazie a tutti.